Momenti di tensione, stamattina a Piazza Duomo siamo a pochi metri dall'ingresso del comune, come vediamo c'è un gruppo di dipendenti della Multiservizi, una delle società partecipate dal comune che sono saliti su questa impalcatura e rischiano di, minacciano di gettarsi. Qual è il messaggio che inviati al sindaco Stancanelli? L'uomo che vedete ingessato sulla sedia a rotelle è lo stesso che pochi giorni è dietro e precipitato all'interno di una botola mentre lavorava per la Multiservizi. Anche lui insieme a decine e decine di colleghi rischia di restare a casa disoccupato. Allora siamo proprio collegati in diretta, quali sono le vostre richieste verso l'amministrazione comunale? Noi abbiamo il nostro posto di lavoro che ci hanno scippato, altrimenti ce l'hanno scippato perché noi abbiamo aderito anche un bando di concorso dove è stato pubblicato e noi ci hanno scippato del nostro posto di lavoro. Il signor sindaco Stancanelli e il signor Raffaele Lombardo il cui il suo padrone, perché sappiamo tutti che è il suo padrone, devono venire qua e dirci in faccia quello che ci hanno promesso perché noi abbiamo fatto fiorfiol di campagna elettorale. Io il posto e i miei colleghi lo abbiamo pagato con i voti, lo abbiamo pagato facendo fiorfiol di campagna elettorale. Io sono anche un tesserato in MPA, mi sono afferminato, magari può dire che non mi conosce, sicuramente dirà che sono un pazzo e non mi conosce, ma la verità è che lui sa, il puparo sa quello che ha fatto. Cioè in sostanza... Noi dobbiamo rendere conto che noi vogliamo il posto di lavoro e noi scendiamo di qui e non so se qualcuno si può, perché non posso essere nella testa degli altri, affinché le persone ragionano, quando ragiono qualcuno arriva giù, qualcuno si prende la sua responsabilità. Noi vogliamo il nostro posto di lavoro, non chiediamo niente, anche 7 anni e mezzo che sono a Catania Multiservizi e noi vogliamo il nostro posto di lavoro, come è stato promesso e come noi ce lo stiamo guadagnati soltanto, noi da qua non scendiamo, questo è tutto. Senta, in sostanza i politici vi hanno dato il posto di lavoro in cambio dei voti? Sì, 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 noi abbiamo fatto sì più di campagna elettorale, questo lo possiamo dire pubblicamente e lo sanno tutti, perché io voglio il mio posto di lavoro, poi mi hanno fatto le campagne elettorale e mi danno il posto di lavoro.